ciao allora oggi sfogliamo insieme il catalogo di natale del libro she ebbene si è arrivato il catalogo di natale piccola premessa dice che scade il 27 dicembre del 2018 ma io vi garantisco che visti i precedenti anni per essere sicure di ricevere i vostri prodotti in tempo per il natale gli ordini devono essere fatti entro il primo di dicembre anche perché sono edizioni limitate e quindi finiscono velocemente e corrieri sotto natale sappiamo benissimo come sono quindi entro il primo dicembre siete sicurissime lo confermo io di ricevere i vostri prodotti in tempo per il natale allora sfogliamo il catalogo ed è visto che un catalogo sempre molto lungo andrò abbastanza veloce nello sfogliarlo comunque sia dopo ne parliamo allora eccoci questo è l'album di natale come vi ho anticipato e anche se valido fino a 27 dicembre per ricevere i vostri articoli entro natale è necessario fare l'ordine entro il primo di dicembre questa sarà una carrellata veloce poi nell'info box c'è lì per scaricarlo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo e vederlo con calma comunque iniziamo ecco la prima perfumazione è questa red apple mila rossa con tutte le varie taglie ed è quindi crema magno in formato piccolo il balsamo labbra il gel doccia sfogliante il bagno doccia i formati mini latte corpo questa è la prima il primo set con la lanterna in cartone e abbiamo il latte corpo da 50 ml il bagno doccia 50 ml il balsamo labbra e la crema mani da 30 ml 995 poi vediamo gli altri prodotti che sono sapone per le mani il balsamo corpo il bagno doccia quello da 200 ml quello da 400 la crema mani quella formato grande eccoli qui qui abbiamo la candela il sono davvero tanti comunque sia questo è il più grande che comprende a 795 la confezione eccola qui in cartone il sapone liquido da 190 ml la crema mani da 75 e questa confezione se noi abbiamo l'altra profumazione che è il golden tea e questi sono curiosi di provarla sempre con i stessi prodotti bellissimi i disegni delle immagini quindi anche qui sempre con la lanterna il formato piccolo 995 e altri prodotti e il formato più grande la set 95 oppure il set più grande ancora 1295 dove c'è il cestino bellissimo metallo verde con la crema mani da 30 ml il bagno doccia 200 il bagno doccia 50 più piccolo latte corpo da 200 abbiamo detto 1295 stessa cosa per le golden tea oppure il set più grande in questo caso 1495 con il cestino rosso eccolo qui sempre in metallo con il bagno doccia 50 ml il bagno doccia da 400 ml la crema mani da 30 ml il latte corpo da 200 ml sapone liquido per le mani il cestino verde che caratterizza la mela rossa e il cestino verde che caratterizza la mela rossa con il gel doccia sfogliante il latte corpo da 200 ml la crema mani il bagno doccia da 200 ml il sapone liquido per le mani il guante sfogliante e il cestino e il cestino stessa cosa anche per il golden tea quella ancora più grande il set da 29 95 con il cestino e quello qua dorato abbiamo il sapone profumato gel doccia sfogliante balsamo corpo latte corpo il bagno doccia da 400 ml la candela il sapone liquido la crema mani e i guanti sfogliante e stessa cosa anche quello per il 29 95 quello per i red apple vediamo gli altri set da regalo il solito 95 il set di kit delle crema mani oppure il kit del bagno doccia volendo ci sono anche i cestini e delle profumazioni classici quindi questo è quello rilassante questo lo chiamano grande gran fruttato vaniglia barbon moce di cocco quelli per i più piccoli dove la volpina è fantastica che sono tutti comunque set a regalo edizione limitata make up dove prima vediamo la candela profumata vanille vanille night interessante le toilette l'olio doccia profumato i vari colori di rossette edizione limitata oppure il duo illuminante il mascara volume exeer il tocco illuminante viso decolleté e la palette in limitata che è bellissima se no gli altri set classici che comunque sono sempre graditi il palette viso occhi e labbra oppure queste due linee carine piccolina che sono le pali natale da attaccare anche all'albero perché no con il rossetto e lo smalto se no anche solo con gli smalti con la stella i vari set sempre con set manicure quindi tutto quello per le mani eccolo qua la bb cream con la trousse le varie idee a regalo con i profumi molto belli anche molto eleganti quel quadri che profumazioni quindi si procede tranquillamente la profumazione che si preferisce anche il mattino giardino quindi quel set che bello anche questo e la pochette in tessuto le linee per uomo quindi anche con eccoli qua con i beauty da uomo con tutte le linee anche quelle più piccole con solamente vari prodotti del corpo e capelli eccoli qui con le varie linee quindi è tranquillamente per i capelli ed è dunque quelli di idratante nutriente per il corpo oppure le pochette per capelli per capelli ricci ecco quella riparatore che è ottimo linee specifiche per il viso quindi set che sono davvero interessanti il già vegetale anche gli altri set depressione set più completo sensi di vegetale stessa cosa oppure le linee anti età sempre bella questa pochette trasparente perché è bellino anche come regalo il nuovo prodotto questo è il seasonest city dectox quello sono pochette le altre varie linee e questo che è l'ultima che è bella la trousse con il siero ultra rimpolpante questo era tutto il catalogo abbiamo svegliato tutto il catalogo avete visto le edizioni limitate profumate che devono essere yum come sempre super natalizie i set natalizi le varie sacchetti regalo proprio adatti per ogni tipo di destinatario del regalo oppure anche per ogni budget quindi davvero c'è di tutto adatti anche ogni esigenza ovviamente di richieste quindi vi ricordo che gli ordini devono essere fatti entro il primo dicembre così siete sicuri di ricevere il catalogo qui sotto nell'info box c'è il link per scaricarlo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo con calma lo salvate ve lo riguarda tante volte non c'è problema e come sempre intanto vi auguro buone feste e buoni acquisti naturalmente profumati con il magico attuale mondo di brush